o ma tutti amici e ben tornati sul mio canale io sono pure vintando e benvenuti a tutti neri erano nel numero non lo so va bene in qualche il sesto sì il sesto episodio di il sesto episodio di fura features oggi siamo su donkey kong 3 allora ok così si fa allora ah così si salta ok si salta con il pulsante di aiuto aiuto gli insetti ahia ok già iniziamo malissimo ti pareva posso scendere? ah posso scendere pure ok scusate non le so tutte quante le cose io ok bisogna spammare non si può tenere premuto ok fammi uscire tutti questi moscelini ok vai via donkey bisogna fare il miglior punteggio che voi saprete vai vai api strane no ma quando ci metta a morir sto brufo o qualsiasi animale sia qualsiasi insetto sia non muore ma che è questo rumore che appare nel 3x2 cioè questo suono bene 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 non è che era con la ma sonora non penso vai donkey che è sta roba aia che è successo dammi sto razzo strano ok bene primo livello fatto non ho ben capito però ok vai ok bene allora bene vai secondo livello ok donkey ah abbiamo già finito che serio ah ok quindi è più semplice del previsto ok bene perfetto 3000 punti vai ah si ritorna poi da qui ok all'inizio non avevo capito bene io ah semplicemente così va bene ok ok va bene perfetto ah bene allora cambiano gli scenari ok se cambiano gli scenari allora è un'altra storia oh e girati mio caro non so chi tu sia non penso che tu sia Mario ah quello servono i cosi ok per valutato poi gli insetti tornano arrivano e rubano le robe ok 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 tu non so chi sia non so chi sei però dai fastidio sicuro aia e dai no cosa mi ha preso porco cane andiamo di qua va no no ho saltato e dai eh sti insetti mamma mia che fastidio se donkey però fa spawnare ancora queste api eh non è colpa mia ah ok ok finché sono solo bruchi non è un problema aiuto ok quindi bisogna praticamente non far arrivare gli insetti alle robe ok no scendi ok l'ho fatto è perfetto immagino no ok si è perfetto ok bene vai scenario numero non ho tenuto il colto quindi vai donkey ho capito sti cosi però vanno in mezzo no no ok tu non porti via niente proprio ok vai 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 oh che caspio mi ha lanciato quel coso vai 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 stupid ape ok ok vai donkey può scendere per favore può scendere per favore alla fine ha fatto meglio il secondo bene questa camera la lascia bene fatto perfetto bene vai no e si ritorna qua sì ok va bene iniziamo cominciamo però a sparare bene bene mi impazzata contro donkey i livelli diventano come al solito come i vecchi giochi a te a keita è sempre più difficile vai stupida ape muori aia porca vacca oh ma ho sparato e dai oh vai spara l'impazzata contro donkey parco cane e non intendo ovviamente con il vostro di cane ovviamente intendo dire con un altro cane vabbè oh mi pare occhi no chi ce l'ha no 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 ci siamo proprio capiti no a giù ok no no e dai no ok vai vai porca vacca Oddio mio No, 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 no Oh, non riesco, mamma mia C'è una cosa, spostiamoci di qua prima, va Dai, ce l'avevo fatta, dannazione No Devo salvare con la pianta, altrimenti non riesco, non posso Ok Andiamo di sotto, va Oh, ste piante, mamma mia Nella freccia Ok, vai, vai Mori, donkey Mamma mia, cioè è difficile soltanto sto livello, mamma mia Vai via Muore, scappa via Oh, finalmente Oh, mamma mia, scusate per la mia reazione, però veramente Cioè, dopo un po' è sempre la stessa storia La lasciamo perdere, va Non avete capito niente tanto Vai, si ritorna qui, vai Porco cane, già iniziamo subito con l'ape, vai Oh, mio Dio, che fatica Parca vacca Vai, donkey Allora, ape dello sterco Eccò No Allora, queste stupide api, mamma mia che fastidio Eh da, ce l'avevo fatta Dannazione Ne Oh, eh, ho capito M'hanno, eh, m'hanno incastrato Eh, come dovrei fare qua, spiegami il gioco Oh, eh, oh, e allora Oh, e se bionda verso di me Mi sono incastrato Ah Oh, mamma mia, che Mmm Non riesco Ah, mi devo abbassare davvero scemo, pure io Se te togli, magari, stupido cosa Dai, ah, l'insetto, dannazione Ah Scendiamo, va No Scendiamo, però scendiamo bene Allora, tu, donkey Cosa mi ha preso? Dov'è? Eh, ho capito, non so dove sono Dopo questa, però, basta, eh, raga Mi sa che poi il video viene abbastanza lungo Oh, e se bionda Sardiamo, oh Muori, muori Puoi morire, per favore, mamma mia Oh, no Oh, sto cosa non muore Da Allora, su No Su Eh, dai, ma non riesco Ah, che fastidio, mamma mia Vai Vuoi morire? Oh, alleluia Mamma mia C'è un altro livello nuovo Oppure si ricomincia Vai, 3000 punti Bene Eh, vabbè Questo qua è più fattibile Faccio solo questo, poi basta, eh Ve lo dico prima Vabbè, perché alla fine i livelli sono quelli Cioè, sono sempre gli stessi Vai, via Vai, sali, 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 sali Contro l'alveare Dai, porca vacca Vado a me, ho lasciato tipo un cocco, tu Ma non ci sono cocchi nelle foreste Oh, finalmente Muori Va bene, amici Spero che il video vi sia piaciuto Come di cui sempre Iscrivetevi Mettete mi piace Lasciate tanti bei commenti Iscrivetevi anche la mia pagina Instagram E Twitch, ovviamente Che trovate sotto nella descrizione di questo video Attivate la campanella E noi, amici me, ci rivedremo Presto